Prima edizione del telegiornale regionale della RAI, a tutti voi buon pomeriggio. Dopo la Will, anche la CGL denuncia il rialzo delle addizionali regionali e accusa il presidente Chiodi di affermazioni propagandistiche su riduzione delle tasse e risanamento dei conti della sanità. Roberto Mingardi. Una sgradevole sorpresa di fine legislatura, così la CGL sul nuovo aumento delle addizionali regionali. IRPEF e IRAP furono alleggerite rese progressivo nel 2012 con un accordo regione e parti sociali che la CGL peraltro non sottoscrisse perché in disaccordo sull'eccessiva dispersione di quei 42 milioni. Ma per il 2013 e 2014 quel beneficio non si è rinnovato e questo per difficoltà strutturali di bilancio che, dice la CGL, il presidente Chiodi ha tentato di coprire compromesse elettoralistiche. Il presidente Chiodi nel 2012 ha fatto un atto di propaganda riducendo di 42 milioni a pioggia la tassazione. Questa scelta non ha retto nel tempo e oggi di nuovo gli abruzzesi hanno l'incremento della tassazione. E in particolare, rivela il segretario della CGL, è stato proprio il ministero dell'economia nell'ultima riunione del tavolo di monitoraggio sui conti sanitari dello scorso novembre a richiamare alla regione a rispetto di debiti non ancora sanati e quindi all'impossibilità di restituire anche per il 2013 una percentuale di tassi in eccesso. Le solenne affermazioni di Chiodi sulla riduzione delle tasse e sul risanamento dei conti sanitari, Chiosa, la CGL, sono pura propaganda con uno scarico sempre più evidente delle sofferenze della sanità sull'intero bilancio. Ormai il bilancio regionale, guardato nella sua totalità, ha grandi difficoltà. Noi sappiamo che l'incontro fatto al tavolo sulla sanità ha imposto il tavolo nazionale al Presidente di fare un nuovo mutuo di 176 milioni perché appunto le risorse e la cassa non c'erano sufficienti per rispondere a quelle che erano le esigenze della sanità. Quindi di nuovo stiamo in una situazione di difficoltà di bilancio complessivo della regione.